Udc e Ncd rappresentano le forze della concretezza che vogliono riportare in Europa i valori del popolarismo. Così il segretario nazionale dell'Udc che accompagna d'Avelino Giuseppe Gargani nella corsa al Parlamento europeo. Ci vuole più Italia al governo europeo, ha proseguito il candidato capolista dell'Unione di Centro e Nuovo Centrodestra nella circoscrizione meridionale. E parlando dei fondi comunitari spesi male o non spesi affatto dei vari enti, ha aggiunto non bisogna restituire più un euro all'Europa. Non bisogna restituire più un euro all'Europa, che poi scarichiamo sull'Europa tutte le responsabilità, ma poi basta vedere i dati, di non utilizzo dei fondi da parte della regione, dei comuni e la mancata anche presentazione di progetti adatti, cioè idoni rispetto ai bandi che escono anche da parte dei settori produttivi, fanno sì che l'Europa, che l'Italia ha dimostrato di non essere all'altezza delle potenzialità che l'Europa offre. Quindi bisogna utilizzare tutti i fondi. Se solo facessimo questo avremmo fatto già un grande passo avanti. L'impegno per il Sud, l'Irpinia è una terra che ha molti problemi, il lavoro, vertenze importanti come la Iris. Io ho la mia idea da sempre. Se non risolviamo il problema del mezzogiorno seriamente utilizzando anche le risorse che l'Europa mette a disposizione che dal 2014 al 2020 saranno enormi, se non risolviamo il problema del mezzogiorno non risolviamo il problema dell'Italia. Se non rilanciamo il mezzogiorno parliamo veramente di poco, non colmiamo divario tra Nord e Sud, ma ripartendo dal mezzogiorno che serve anche a Nord, l'Italia non lascia dalla situazione di crisi in cui si è cacciata. C'è un clima di antipolitica, di antieuropeismo fortissimo, soffia forte il vento dell'antipolitica e dell'antieuropeismo, frutto di due cose. Uno, dell'incapacità della politica di dare risposte negli ultimi anni ai problemi veri della gente e noi siamo stati quelli come tutti ci che hanno contrastato, abbiamo affrontato la campagna dottorale del 2008 a testa alta da soli proprio per denunciare che il sistema bipolare che governava il paese era assolutamente non concreto. L'altro motivo è che tutte le responsabilità, ed è una moda tutta nostra italiana, si scaricano sempre sugli altri. I sindaci scaricano sulle province, le province sulle regioni, le regioni sul governo nazionale. Il governo nazionale, siccome le cose non vanno bene, sono anni e anni che si scarica tutto sull'Europa, salvo poi vedere che veramente chi è che manca di capacità sono proprio gli enti locali, le regioni, lo Stato nazionale che hanno saputo utilizzare le risorse al meglio.